La gestione amministrativa stenta a ripartire a Scalea dopo i fatti di Plinius, la reggenza della triade commissariale si sta ritrovando di fronte agli stessi atavici problemi. Due su tutti sono praticamente esplosi in questi giorni, ma anni di premesse negative non lasciavano presagire nulla di buono. La questione rifiuti, già di per sé traumatica, vista la condizione generale di un sistema regionale lontano, anni luce da processi in linea con il terzo millennio, continua a tormentare uffici, apparati politico-amministrativi e soprattutto i cittadini. Che quello della gestione dell'immondizia si sia rivelato in molte regioni un business per lo più gestito dalla criminalità organizzata, prova ulteriore l'operazione dei giorni scorsi che ha portato all'arresto di 24 persone al sequestro di beni per 18 milioni di euro e cosa nota, ne consegue che le società impegnate nel settore risultano spesso poco affidabili sotto diversi punti di vista. A Scalea, dove gli appalti per la gestione del servizio rifiuti costituiscono uno dei filoni principali dell'indagine che ha portato all'arresto del sindaco, di alcuni assessori e di altre persone tra dipendenti comunali e soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata, si era finalmente trovata la strada della gara con affidamento per 5 anni. Un periodo che poteva garantire una programmazione a lungo termine ed evitare così soprattutto in queste settimane di accogliere i turisti in una città invasa da cumuli di immondizia. La vita ambiente che si era aggiudicata alla gara però non è riuscita a risolvere i problemi che avevano indotto l'amministrazione comunale a sospendere la giudicazione e oggi si trova anche a dover rispondere di eventuali danni causati all'ente che dovrà continuare ad affidarsi alla gestione della falsarano già presente sul territorio. Altro tasto dolente è la discussione dei tributi, impossibile dimenticare il valzer delle società che hanno gestito le entrate tributarie negli ultimi dieci anni, lasciando all'ente un enorme buco di bilancio e la completa assenza di un'anagrafe tributaria. Anche su questo versante i commissari avevano provato a sbrogliare la matassa ricorrendo nuovamente ad una società esterna, la GOSAF S.P.A. Nei giorni scorsi però, come riportava stamattina il Quotidiano del Sud, la Guardia di Finanza di Caserta ha disposto un sequestro preventivo nei confronti del socio unico e del rappresentante legale della GOSAF S.R.L. Che tra le due ci sia un legame in quanto meno legito pensarlo e se si pensa che secondo le indagini gli amministratori della S.R.L. si sarebbero appropriati di 800.000 euro versati dai contribuenti, il biglietto da visita non è proprio da considerarsi dei migliori. Situazioni spinose in cui la cautela non è mai abbastanza, figurarsi quella dei commissari, anche se in città già da tempo si avverte la necessità di un ritorno ad una guida politica per il Paese.